Continua con le risate e l'allegria la stagione teatrale Ald'Andrea di Pratola Pellinia, a cura dell'associazione Informart. Il 7 aprile alle 21, infatti, sarà la volta di Fabrizio Gaetani, con la sua 80 voglia di cabaret. Il comico romano, da simpatico Guascone qualè, parlerà al pubblico abruzzese con semplicità e buona ironia del quotidiano e di questa società bizzara, entrando e uscendo continuamente da tanti personaggi che lo caratterizzano. Comico, cabarettista, autore, monologhista, presentatore, imitatore, il suo spettacolo è un mix di sensazioni e situazioni comiche che coinvolgono la televisione, la famiglia, i vizi e le virtù della società contemporanea. Il costo del biglietto è di 10 euro, 8 euro ridotto. Per informazioni, 339 57 35 479 oppure info.teatrocomunale.com